Non più tentato omicidio ma lesioni personali aggravate. Il ragazzo di 20 anni arrestato dopo aver picchiato a sangue un trentenne in un locale del centro di Brindisi ha ottenuto i domiciliari e ha lasciato mercoledì pomeriggio il carcere di Via Appia con un ridimensionamento delle accuse nei suoi confronti. Il GIP Vittorio Testi nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto ha accolto la tesi dell'avvocato difensore Roberto Cavalera che ha sostenuto l'insussistenza di qualsiasi volontà omicida da parte del ragazzo e ha disposto come richiesto dallo stesso PM Pierpaolo Montinaro anche l'attenuazione del provvedimento cautelare vista l'incensuratezza dell'indagato disponendo gli arresti domiciliari. Determinanti per la decisione del GIP sono state le dichiarazioni rese per oltre un'ora dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di convalida ma soprattutto le testimonianze del proprietario del locale in cui è avvenuta la colluttazione e di altri giovani presenti. Tutti hanno evidenziato come sia stata la vittima del pestaggio palesemente ubriaca prima a infastidire verbalmente poi a mettere le mani sul collo e infine a scaraventare contro il bancone il ventenne che gli aveva chiesto più volte di smettere e che ha reagito poi con un pugno sul volto dell'aggressore infierendo anche con dei calci ma tentando di rianimarlo quando si è accorto che aveva perso conoscenza. Intanto il trentenne mesagnese nel reparto di neurochirurgia del Perrino si è risvegliato dal coma e ha dichiarato di non ricordare nulla dell'accaduto se non di aver bevuto parecchio. La prognosi per fortuna è stata sciolta non è più in pericolo di vita.